Natale bellunese, Confcommercio lancia la campagna Fai un regalo alla tua città. Sostieni con i tuoi acquisti i negozi vicino a te, il sottotitolo dell'iniziativa che mira a sensibilizzare la popolazione al commercio sotto casa, ad esempio negli esercizi di vicinato, nei negozi dei centri storici e nei mercati. Il tutto per salvaguardare un'economia in enorme difficoltà da tempo in uno dei periodi natalizi più sfortunati degli ultimi anni. È un regalo che noi vorremmo tutti ci facessimo a vicenda. Cioè di potere con il nostro comportamento fare una sorta di patto sociale, riuscire a consumare dando un valore alla presenza dei negozi nelle nostre città e quindi tenendo aperte, vivaci anche per il futuro le nostre città. Già nei mesi del lockdown abbiamo visto come comunque le attività di prossimità sono state un valore per tutta la comunità. Credo che sia importante ora dare un sostegno anche con i nostri acquisti, con quello che andremo comunque ad acquistare per Natale, per le prossime festività, agli operatori commerciali in modo tale che le nostre città possano rimanere vive e vitali. Scopo della campagna? Far emergere l'importanza di un collettivo di imprese che anima la città, arricchisce i centri storici, presidia i piccoli borghi e le vallate della montagna bellonese. Forse in questo momento anche le abitudini date dalla pandemia, quindi di non poter girare, di dover comunque frequentare i posti più vicini a casa, anche questo comunque è un'abitudine che può consolidare un atteggiamento virtuoso. Quindi deve essere una scelta positiva, consapevole, vuole essere uno stimolo a un comportamento virtuoso.